il thriller al femminile dietro la notte arriva su sky cinema protagonisti stefania rocca fortunato cerlino roberta giarrusso e la giovane elisa visari diretti da daniele falleri la protagonista interpretata dalla rocca è appena stata licenziata da un capo maschilista ma deve portare a dubai un carico di diamanti chiude tutto nella cassetta di sicurezza della sua casa dove vive con il nuovo compagno e la figlia che in pieno conflitto con lei ma è spalleggiata dalla zia quando cala la notte succede l'imprevedibile stefania rocca spiega io ho accolto il film con grande entusiasmo proprio perché si raccontava un film al femminile non perché vogliamo fare le femministe ma perché finalmente ci sono dei ruoli femminili che vanno un po al di là dello stereotipo i personaggi femminili che racconta poi in realtà a fine film non sono non sono esattamente quelli che sembrano e quindi sono donne anche inclusive all'inizio possono sembrare invece molto molto dure molto molto forti contro gli uomini ma in realtà quello che loro sono sono assolutamente inclusive ma contro una discriminazione che hanno probabilmente negli anni dovuto subire grazie alle loro capacità la loro intelligenza e solidarietà le tre donne riescono lottando a uscire da una situazione da incubo più unite e più forti di prima questa questa forma di sofferenza che porta poi a una diciamo specie di vendetta era interessante perché comunque il cinema può anche essere di esempio per tutti noi e quindi l'esempio di non mollare mai e di non lasciare mai le cose così a sedimentare da sole ma se c'è una sofferenza di portarla fuori Rocca quest'anno è stata protagonista di serie come Cops una banda di poliziotti e tutta colpa di Freud ora dietro la notte arriva su Sky Cinema ma le sale stanno pian piano riaprendo a questo proposito l'attrice dice sì mi manca molto il cinema e sono contenta che insomma si si riaprano anche perché credo che sia il cinema non sia proprio il luogo dove è così pericoloso siamo tutti a distanza tutti con le mascherine nessuno parla detto questo viva il cinema e continuiamo resilienza grazie a tutti